Ciao a tutti, sono Laura Anticchi, vi presento Spreaker e Spreaker Studio per realizzare i vostri podcast. Spreaker è un servizio web e mobile che permette di creare una radio online, possibile trasmettere dal vivo e realizzare podcast. La piattaforma contiene una collezione di temi musicali. Nella versione gratuita la registrazione dura 30 minuti. Sono disponibili le app per iOS e Android. Si possono creare programmi radiofonici, aggregarli in palinsesti personalizzati. Si possono ascoltare e produrre programmi radio nella piattaforma di Spreaker e mediante mobile. Possono essere embeddati in pagine, web e siti. Generare podcast in relazione alle attività della classe per consolidare e tenere memoria delle informazioni per le lingue e tutte le discipline. Si realizza una radio in diretta su temi di attualità e costume. È un modo per accedere e diffondere l'informazione e lo studio. Gli studenti creano la propria web radio personale su autori fatti di cronaca. I podcast possono essere podcast tematici e possono essere dei notiziari sugli eventi educativi. I docenti predispongono podcast tematici, recensioni di libri, interviste impossibili, narrazioni ed altro. Vediamo ora come accedere a Spreaker dal web. Scriviamo Spreaker nella casella di ricerca di Google e il primo risultato è quello giusto. Questa è l'interfaccia e bisogna registrarsi. Come vedete qui nella prima pagina ci sono una serie di informazioni e con i podcast anche più straordinari che nascono con Spreaker. Poi perché scegliere Spreaker? Andiamo dopo esserci registrati in Crea un podcast. molto interessante questa pagina iniziale perché ti dà subito la possibilità quando sei registrato o logato di caricare un episodio e ti dà delle informazioni molto utili. definisci il tema del tuo podcast, il nome, la durata, la tipologia e poi ti invita a trovare il software giusto per poter registrare degli episodi significativi e uploadarli nell'applicazione di Spreaker. è possibile comunque con Spreaker Studio avere una base per l'editing degli audio e la registrazione immediata come vedremo dopo. C'è anche come scegliere l'attrezzatura migliore e ti dà tante altre informazioni. Andiamo ora a vedere piani e prezzi. Vedete che abbiamo il professional e l'enterprise. noi useremo comunque il free, questo ti dà comunque la pubblicità del pro e poi andiamo a settare le informazioni di base. Nell'icona del vostro account trovate profilo pubblico e qui potete vedere nel profilo pubblico tutti i podcast che avete realizzato. Interessante che potete realizzare più podcast con poi gli episodi connessi a questo podcast. Andiamo ora a vedere, i miei podcast li abbiamo visti, ecco qui. Se li avete già creati, se no vedrete vuoto. e poi potete vedere altre informazioni. Andando in impostazioni abbiamo le informazioni base. Vi chiederà quando vi logate di mettere il vostro nome completo, di mettere una copertina per cambiare l'immagine quindi di profilo e gli altri dettagli e ti dà il tuo userid. Poi andate a salvare le modifiche. ci sono i collegamenti poi e qui potete collegare gli account ai vari social quindi collegarli a Facebook, io non ho ancora fatto e a Twitter, a YouTube, accanto a YouTube, eccetera eccetera molto interessante. Avete la possibilità di cambiare la password, cambiare l'email ma l'interessante sono gli account proprio collegati. Ritorniamo quindi nell'interfaccia. Abbiamo visto, mi sembra, tutto e a questo punto o dall'interfaccia generale crea un podcast entrate comunque nel vostro profilo pubblico ok e create un podcast qui ti dice di caricare un episodio quindi andate a caricare un episodio ti chiede di scegliere il podcast in cui caricare un episodio e poi ti chiede di scegliere il file da caricare e quindi hai la possibilità di trascinare qui il tuo file audio che può essere in formato mp3, mp4, m4a, wave, 3gp, aac insomma tutti questi formati con una dimensione massima di 300 megabyte scelgo questo file il potlatch apri e vedete che è un file mp3 e clicco su carica e attendo il caricamento do un titolo mi viene restituito un link permanente che posso anche cambiare poi mi dice mi piace di metterlo in un podcast di nuovo se lo voglio cambiare comunque l'avevo messo in radio cronache in diretta ma potrei anche cambiare con i podcast che ho creato e poi ho il link per il download diretto che vado naturalmente a copiare la visibilità può essere pubblica e quindi pubblico nel senso che sarà presente in speaker o anche privato che permette quindi il privato di condividere questo file mp3 questo episodio con le persone che hanno il link a cui si dà il link bisogna dare una descrizione esempio possiamo scrivere questa è una lezione di antropologia ok e andiamo poi a caricare un'immagine che sia adatta a questo episodio del podcast e quindi carica nuova immagine scelgo questa immagine dal mio computer apri e quindi l'immagine selezionata mi dice che è troppo piccola rispetto al mio consentito quindi carico un'altra immagine carico questa ok questa è la presa potrei anche cambiare l'immagine metto i tag antropologia esempio e poi non clicco su contenuti espliciti perché sono per gli adulti e potrei anche pubblicare dopo pubblicare subito di default oppure dopo vedete vado a cercare la data pubblico invece subito e poi mi dà la possibilità di condividere con i social nel momento in cui ho creato il collegamento con i social quindi ho praticamente settato le informazioni dell'episodio mi dà il codice da incorporare mi dà la condivisione automatica e capitoli fa l'audio e elimina anche episodio vado a salvare il mio episodio ok l'ho salvato e lo pubblico pubblica adesso si pubblica e vedete che il podcast che ho creato si trova in Radio Corona che è in diretta ed è come potete notare privato nel senso che darò il link alle persone a chi credo siano i destinatari ideali di questo vado posso eliminare l'episodio posso modificarlo di nuovo ecco ma comunque l'episodio è realizzato quindi se vado in podcast in cronache in diretta trovo l'episodio vediamo ora com'è venuto questo episodio clicco sull'episodio una lettura di antropologia Franza Boas in potlac da Franza Boas The Social Organization and the Sacred Society of Kwa Kjutla India quando un ragazzo giunge all'età in cui prende come vedete è perfettamente riuscito questo episodio all'interno di Radio Corona che in diretta l'avevo creato precedentemente con Audacity inserendo degli effetti della musica di sottofondo posso andare a modificare l'ho già modificato comunque in pubblico invece che privato così ho potuto ottenere il link per il download diretto copia e così via volevo farvi vedere un'altra cosa come si possono creare i podcast nei quali inserire poi gli episodi io ne ho creato tre Radio Corona che in diretta che abbiamo visto Radio Luna e il traccio di l'antichi invece quindi di caricare un nuovo episodio all'interno di podcast andate a creare un nuovo podcast qui mettete il titolo del vostro podcast potrebbe essere le recensioni di libri la lingua l'italiano ad esempio di libri poi la lingua italiana la categoria in questo caso libri potete caricare qui una nuova immagine che sia almeno 1400 1000 pixel un'immagine che sia un'immagine di copertina vediamo se la prende ecco e quindi lo lascio sul pubblico e poi vedete do la descrizione dunque allora lettura di libri libri eccetera eccetera metto la mia mail perché può comparire quindi l'antichi gmail punto com ok poi andate in crea così create un nuovo podcast in questo modo simile agli altri che ho già creato io come radio cronaca in diretta radio luna e tracce di l'antichi qualche precisazione riguardo ai podcast creati come vedete come abbiamo visto le radio cronache in diretta sono costituite da due episodi la radio luna questa è costituita da quattro episodi e tracce di l'antichi da quattordici episodi clicco sempre su visualizza e modifica e vedo che rispetto a ciascun episodio che ho pubblicato all'interno di radio coronache in diretta ciascun episodio lo posso a parte il modificare con la penna posso andarlo a condividere posso copiare il link mi dà un codice da incorporare e posso poi collegarlo ai vari account che ho era una precisazione poi dai tre puntini posso vedere l'episodio e eliminare l'episodio quindi questi e il potrace le lontananze sono due episodi dentro radio cronache in diretta ora voglio vedere com'è l'interfaccia delle mie radio cronache in diretta ecco questa è l'interfaccia del mio podcast radio cronache in diretta e posso cambiare l'immagine e posso anche ascoltare su speaker podcast player vedete quindi come appare a tutti il mio podcast posso andare in modifica a modificare ok tutte le informazioni che erano state date che abbiamo messo posso avere ottenere il feed rss come vedete da qui e posso poi andando sulla freccettina mi viene resa visibile il simbolo della condivisione del mio podcast con i suoi episodi posso quindi embeddare il podcast posso condividerlo sui social o posso prendere avere ottenere il link del podcast che contiene i due in questo caso i due episodi in questa seconda parte andiamo a vedere come registrare con Spreaker dovremo servirci di un'applicazione per in questo caso per PC andando in Spreaker andiamo in Spreaker vado da qui servizi e vedete che ci sono le app di registrazione dice inizia subito a registrare e ti dice di scaricare l'app sul tuo computer io naturalmente l'ho già scaricata e dice che l'app è disponibile anche per i os e android una volta che avete adesso apro l'applicazione quindi che si chiama Spreaker studio che ho già quindi disponibile vedete che questa è una praticamente piattaforma di regia dei podcast potete osservare che è un free speech e mi dice che lo spazio audio che ho utilizzato è il 14% ossia un'ora di 5 ore c'è il registra le bozze dei file caricati posso collegare a skype ho la possibilità di accedere a musica royalty free che si appoggia su un sito che la rende disponibile e poi con un piano di acquisto e poi ho le preferenze come vedete generale la lingua dell'applicazione tra quelle disponibili ho lasciato quello di default console avanzate questa interfaccia ho la possibilità di caricare delle playlist dal mio computer ho la possibilità di caricare delle tracce audio dal mio computer esempio ne avevo già caricata una facciamo questo mp3 apri ok e questa sarà la musica in background della traccia sentite posso ecco chiudo posso poi utilizzare degli effetti questi effetti sono molto simpatici da inserire nella mia registrazione e ho altri effetti insomma vediamo un altro questo 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 eccetera eccetera ora per registrare sotto ho tutta la serie dei microfoni delle sorgenti come potete vedere e con il tasto inizia o registra alla vostra sinistra possiamo iniziare la registrazione quindi clicco su inizia mi chiede di scegliere come trasmettere o in live quindi mi direttamente da trasmettere direttamente e andare in diretta oppure offline quindi salvando la registrazione come bozza e poi scegliere di pubblicarla subito o dopo clicco su offline ok e poi vado a cliccare nuovamente sul tasto registra faccio andare magari la musica di sottofondo ecco registra sto registrando e faccio andare la musica di sottofondo questa è quindi una registrazione a di prova se volessi interrompere la registrazione potrei ricliccare sul tasto rec ok intanto va la riproduzione quando ho finito di registrare questa è una registrazione di prova vado su questo quadrattino clicco e da la nuova registrazione in bozza che posso andare a riascoltare ok e poi vado a cliccare nuovamente sul tasto registra faccio andare magari la musica di sotto fondo ok intanto va la riproduzione bene posso caricare un'immagine dal mio computer potrei eliminare la nuova registrazione potrei esportare sul file mp3 sul mio computer e potrei pubblicarla pubblico quindi mi da qui da mettere un titolo la nuova registrazione in questa finestra scriverò prova prova tutorial darò una descrizione prova metto un tag tutorial mi dice dove voglio pubblicare quindi o uno show nuovo oppure in radio cronaca in diretta radio luna e tracce di lantichi vado di nuovo in radio cronaca in diretta va bene vedete che ho la possibilità di caricare anche da qui l'immagine carica un'immagine e poi di collegare con i social potrei anche rendere privato questo questo questa registrazione oppure il contenuto esplicito quello per adulti quindi da non cliccare posso pubblicare o pubblicare dopo se pubblico dopo mi viene data la possibilità di scegliere dove pubblicare vado vado quindi in pubblica ok è stato pubblicato con successo vado poi negli episodi pubblicati mi riporta il sito il mio sito vado in radio cronaca visualizza e modifica e vedete che c'è la prova tutorial con poi l'imagine che avevo caricato che si è caricato un po e ricardo